bene ciao a tutti bentornati in questa nuova live o in questo nuovo video ciao a tutti ragazzi e fatemi sapere insomma se mi sentite tutto ok dovremmo essere comunque online ok ragazzi allora vi vedo adesso ci siamo va bene allora benvenuti eh nuova live oggi eh con argomenti eh un po' diversi da quelli che abbiamo affrontato diciamo nei giorni scorsi quindi ritorniamo un po' alla normalità ragazzi quindi faremo anche delle live un po' più brevi perché live di oltre un'ora e diciamo e mezza sono troppo lunghe allora ehm eh intanto come sempre vi saluto l'argomento del giorno è cercare di comprendere eh questa fase ribassista eh di bitcoin se in effetti mh può durare ancora quali sono dei livelli insomma cerchiamo di andare a a fare un po' di briefing sulle news che sono uscite eh proprio in questi giorni e stare eh un po' sopra quella che è eh l'attuale fase di mercato per comprendere appunto eh che cosa sta eh succedendo a bitcoin e soprattutto seguirlo un po' come un segugio no? Perché eh secondo me è la cosa che ci interessa eh più di tutti in questo momento cioè il tentativo di andare a comprendere dove ci può portare questa questa fase abbiamo visto un nuova atto di debolezza e probabilmente oggi andremo in close eh su bitcoin con fermando probabilmente la close più bassa e quindi nuovo minimo in close proprio nella giornata di oggi eh abbiamo nuovamente confermato quello che ci stiamo dicendo da eh qualche giorno cioè il fatto che comunque il mercato è estremamente debole quindi al prima eh alla prima avvisaglia su eh Nasdaq di tentativo di di ribasso patatrac e nuovo nuovo trend ehm a dire la verità anche su Twitter eh proprio oggi ragazzi eh stavo andando a vedere ehm insomma alcune analisi insomma che erano state fatte ed erano estremamente interessanti eh perché si evince anche un estrema o fear quindi un'estrema situazione di paura sul mercato la verità è che in questo caso tutte quelle che sono i dati eh statistici e dati di analisi tecnica indicano esattamente paura cioè quindi il problema non è legato a a una improvvisazione e quindi poi ragazzi è difficile andare a definire eh se siamo in effetti in una ehm fase di eccesso dovuta alle alla parte emotiva perché i dati tecnici non indicano questo. Allora intanto andiamo a vedere un po' i vostri saluti eh ciao Enrico eh ciao Gianluca eh di nuovo oggi ciao a tutti eh ragazzo eccetera eh vediamo qui in che dice Mauro è corretto dire bear market dopo la chiusura sotto la MA a cinquantadue su weekly allora eh la definizione tecnica di una mh bear market cioè un mercato orso in realtà mh non esiste mh proprio tecnicamente intendo ecco quindi la definizione quella trovi ehm da cosa dipende eh dipende dall'orizzonte temporale che tu hai al riferimento nella analisi che stai andando a fare su un grafico eh mi spiego meglio se tu analizzi un trend eh in un arco temporale abbastanza lungo e quindi utilizzando un time frame abbastanza ampio ad esempio quello che hai citato la eh settimana e allora puoi eh parlare di bear market perché solitamente i bear market sono eh eh molto lunghi e quindi abbracciano orizzonti eh temporali molto lunghi altrimenti se magari andiamo a guardare un trend da qui alla settimana prossima un mese eh o fra un mese eh non parliamo di bear market perché parliamo di correzione quindi è solo un po' un gioco di parole in questo caso bitcoin è in bear market perché ha breccato il minimo dell'anno scorso cioè il minimo eh del luglio duemila ventuno e avendo fatto il break del minimo per una concetto di natura statistico matematica ha eh entrato in un trend ribassista di medio lungo periodo eh cioè un bear market questo è il concetto perché non è un trend al ribasso di due mesi ma è un trend al ribasso che dura in teoria dallo scorso anno da luglio duemila ventuno e quindi essendo lungo un anno è un bear market quindi questo è il concetto tecnico quindi se poi lo volete spiegare tecnicamente come si definisce proprio a livello matematico è proprio questo poi ovviamente un bear market può anche essere finito magari no proprio adesso e quindi questo è un altro discorso eccetera ciao Mario complimenti grazie grazie a tutti eh la qualità di youtube sulla live è pessima eh non si vedono i grafici bene eh allora io in realtà il problema eh l'ho capito in pratica eh youtube non riesce a renderizzare i video caricati in maniera veloce quindi poi mostra il l'HD il full HD eh dopo un paio di ore per questo quando magari andate a vedere la live subito vi appare così e quindi penso di riuscire a sistemare la questione vediamo se riesco a fare un una compressione del file per farglielo e renderizzare prima di caricarlo e soprattutto qui eh il problema è quello allora diciamo ma ora un pensiero di erno su Litecoin perché Litecoin che cosa eh servirà a qualcosa investisci qualche spicciolo no allora a dirti la verità non lo vedo dovrebbero dare una vita poi perché Litecoin allora Litecoin era il bimbo o il bimbino di Bitcoin eh a che può servire Litecoin? nulla boh lo so ragazzi perché non so se è successo o in pratica qualcosa su su Litecoin adesso lo facciamo così lo provo ad andare a vedere e vediamo se è successo qualcosa però allora Litecoin ok Litecoin è identico a tutti gli altri ragazzi perché mi dite questo dove le leggete queste cose perché c'è il concetto di allora io vedo limitate l'influsso informativo a cose utili allora Litecoin e niente sì sta lì ragazzi che senso ha investirci qualcosa non so se c'è qualche news che magari mi è spuggita ehm è interessante vedere questa forma insomma ciclica di di Litecoin però non vedo alterna cioè non vedo il senso di una tecnologia che chiaramente osserviva quando andava in deficit eh Bitcoin e non si di 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 banda diciamo di di blockchain e quindi non si riusciva a tranzare Bitcoin in maniera veloce si usava Litecoin nel manico ma ti parlo di anni fa per fare gli scambi perché va al di là di questo devi guardare la coppia LTC BTC e vedi che negli ultimi anni ha ha fatto schifo tanto sì esatto vabbè sì è certo ma per questo non cambia niente vabbè quindi non lo so e il bimbo e lo stavo dicendo io Enrico stavo dicendo esattamente bimbo micchia di Bitcoin però mi sono bloccato perché mi sembrava un po' eccessivo eh allora eh Mauro ma questo mensile può avere la forza di fare un rimbalzo viene giù io ho aperto qualche trade ma non so se chiudermi eh allora il ciclo mensile di Bitcoin non è confermato cioè non è confermato nessun inizio del ciclo mensile di Bitcoin eh perciò eh al momento bisogna stare in forte attenzione perché mh eh qualora insomma dovessimo andare poi a ragionare sulla struttura ciclica di Bitcoin dovremmo intanto vederlo un inizio di un ciclo mensile e qui non è iniziato niente anzi non sappiamo neanche se è finito il precedente però è proprio eh il diciotto in teoria che c'era questa mh scadenza ciclica eh dovuta ai TH magari la vediamo insieme eh oggi vediamo un po' il 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 da farsi va bene Mauro guarda BTC su time frame a 15 e 45 minuti beh eh starà crashando immagino adesso lo mettiamo vediamo a 15 minuti vediamo che combina BTC a 15 minuti allora su Bitfinex che sta combinando eccolo qui ragazzi ve lo faccio vedere facciamo facciamo l'operazione di trade di trading ragazzi facciamo un po' di 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 trading su BTC eh allora sì vabbè è una classica struttura eh di barra di congestione abbastanza visibile questo è trading puro quindi quindi un grafico a 15 minuti guardate un po' eh al supportore di questa barra e di congestione molto interessante e carino anche perché sta facendo cicli abbastanza visibili quindi in teoria eh questa potrebbe essere una nuova spike va bene grafico a 15 minuti mi hai dato una una bella dritta ma io non riesco più a far trading non ho tempo sto qui con voi e quindi allora come arriva sui 31 c'è veramente una forte pressione di vendita Andrea è perché 31 o 30 31 è una zona di resistenza di Bitcoin la eh in realtà è tutta una fascia che adesso vi faccio vedere sul time frame eh weekly eh e lo possiamo andare a vedere Wonderland che dici? Dici che se sta potrà ritare fiducia si sta ricostituendo la gestione di fa allora io il progetto Wonderland come sai non l'ho mai ehm eh preso non l'ho mai guardato per che comunque è un progetto altamente rischioso eh della DeFi quindi ho aspettato tanto tempo per vedere poi se stava in piedi poi non c'è stato magari lo rivalutiamo quando rimettono tutto in in piedi e soprattutto perché lì secondo me a differenza di altri progetti per esempio ehm c'è stato il la stable che addirittura ha tenuto anche il peg negli ultimi giorni negli ultimi mesi magari ecco poi si può rivalutare per vedere ma come dissi ai tempi ragazzi quando si va a fare un ragionamento di questo tipo quindi da eh eh venture capitalist no? Quindi si va a scommettere su protocolli e del genere che sono assolutamente dipendenti dal team da singole persone assolutamente dipendenti da eh le decisioni addirittura del team perché c'è il rischio che il team sia fraudolento poi c'è il rischio che il team sbagli poi ci sono tutti i rischi del protocollo tutti i rischi del business cioè del fatto che proprio quel tipo di protocollo non vada mai in porto il il mercato non lo vuole insomma sono veramente tantissimi ragazzi quindi ovviamente ci vuole un po' di tempo quindi al momento non guarderei minimamente progetti te fai ehm eh soprattutto in vista dell'attuale situazione di bear market quindi eh anzi vi vi faccio anche vedere un aggiornamento giusto per eh farvi capire un concetto che è quello della tutela del rischio in una situazione di bear market quando i mercati sono in fase discendente bisogna assolutamente ragazzi proteggersi eh proteggersi sempre e se infatti andiamo a vedere eh il gra i la lista di quelle che sono le top eh i keep i cap crypto contro bitcoin nell'ultimo mese a parte tron ragazzi che vive in un mondo suo diciamo che potrebbe essere anche analizzato abbiamo uno due tre quattro cinque sei più o meno sette questa allora è proprio una stable coin è una eh una specie di struttura a una specie di struttura obbligazionale quindi abbiamo comunque uno due tre quattro cinque sei poi abbiamo il wrapper BTC che non conta quindi sette cripto da escludere da questa classifica su tredici criptovalute che sono migliori nell'ultimo mese di bitcoin tra le top e in pratica a tron vive in un mondo suo ragazzi poi abbiamo defi chain che è stata meglio di bitcoin negli ultimi trenta giorni kucoin e wubi token che sono due cripto collegate ai singoli exchange quindi sono eh dovute diciamo la loro fluttuazione è molto collegata alla agli exchange a quello che decide appunto l'exchange e maker se escludiamo tra le altre cose wubi token e kucoin perché in realtà la fluttuazione è stata più tre più tre ragazzi quindi quasi nulla ci rendiamo conto che tra le top solo maker e tron ragazzi e defi chain quindi tre cripto fra tutte le top cripto hanno performato poco meglio di bitcoin cioè rendetevi conto cosa significa significa centinaia di cripto che performano peggio di bitcoin questo è il problema delle fasi di bear market quindi la stessa eth non mi è piaciuta e negli ultimi giorni sto valutando anche un'ipotesi diciamo abbastanza delicata anche su ethereum quindi mi starei molto attento diciamo ragazzi ad andare a valutare progetti che fai in una fase di bear market prima di tutto la faccio finire la fase di bear market però i progetti li possiamo valutare però attendere capito quindi io sicuramente non metto niente nel mio portafoglio rispetto a quello che già che già c'è ma dei progetti piccolini cripto ragazzi ci sono le coin per il farming che mi servono tipo quella di nexo per la carta e il cr o per la carta cioè ma non sono investimenti quelli ragazzi sono spese consumo cioè chiamiamolo così quindi non c'entra niente per il resto non ho assolutamente nulla e non ci metto certamente nulla fino alla fine di questa fase che magari finirà tra poco e quando il grafico mi darà il segnale come ha fatto a luglio 2020 io poi entro in azione ragazzi io faccio così a me piace seguire il trend e io lo dico e lo faccio ancora con questa storia di ltc ma ti prego dai basta va bene e vedo che comunque davvero lui ha perfumato vale va bene allora vediamo altre cose dovrebbe comprare un po' di trx allora non so perché ha è salita non so per quale motivo devo studiare molto bene la questione e quindi fino a quando non capisco il motivo perché sono sopravvisso da bitcoin non ci metto niente però poi magari se vale la pena prima me la studio ragazzi vediamo un po' e poi decidiamo questa che abbiamo visto con la pandemia la prima boom run fortemente correlata al nasdaq il sentiment macroeconomico globale è pessimo penso che il bear market di bitcoin si prolungherà al meno fino al secondo quarter del 2023 che ne pensi ciao giona sì è un'ottima analisi hai fatto un pensiero estremamente approfondito in realtà la fase di ribasso dei mercati potrebbe in effetti prolungarsi eh come una lenta agonia proprio fino al primo trimestre eh o il primo quarter del 2023 questa cosa c'è e la possibilità c'è e la valuteremo ma io in questo momento eh penso che la soluzione migliore per i mercati sia trovare il loro tappo il loro punto di appoggio eh però in effetti questa valutazione che tu stai facendo la sposo pienamente come possibilità eh io resto sempre con la mia salenza ciclica di questa estate ragazzi come chiusura del ciclo annuale di bitcoin è ovvio che eh al momento avendo già un semestrale negativo eccetera sto valutando anche altre cose essendoci stato un crash importante quindi non una leggera fluttuazione sto comunque valutando anche altre ipotesi che magari poi ne ne parleremo nei prossimi giorni potresti guardare THBTC sul settimanale è in trend rialzista da luglio duemilaventuno in realtà eh proprio questo mh questa coppia sta perdendo forza negli ultimi periodi e si è chiuso in una barra di congestione estremamente pericolosa allora facciamo una cosa andiamo a guardare perché tanto insomma è molto rilevante proprio per la struttura stessa di bitcoin perché è legata a doppio filo con il concetto della dominance di bitcoin e per me eh ETH BTC è anche uno dei pair e uno strumento importantissimo per eventualmente proteggersi in alcune situazioni o per darci un'indicazione di switch tra bitcoin e le cripto se vi ricordate un annetto fa circa magari mi seguo da un altro tempo lo sa eh quando c'è stata la questione se dovevamo switchare un po' da bitcoin al cripto per la alt season e abbiamo valutato proprio ETH BTC perché ETH BTC è come se fosse un faro perché un po' ce l'ha questa struttura ricordatevi che sono fortemente correlati ETH BTC ragazzi perciò non vi aspettate decorrelazione e quindi questa coppia sostanzialmente oscilla all'interno di valori la decorrelazione tra ETH BTC potrà avvenire solo unicamente a causa di qualche shock che può essere uno shock negativo o positivo cioè lo shock positivo la season della DeFi ehm e la summer summer la DeFi summer uno shock negativo un bear market e un fallimento a catena di tutte le questioni della DeFi e delle cripto legate a Ethereum allora shock negativo allora sono correlati ETH BTC hanno il tasso di correlazione più alto che esiste nelle cripto se prendete la tabellina della correlazione eh quella matematica e l'andate a studiare vedete che la eh correlazione più alta ce l'hanno ETH BTC questo è giusto questo non significa però che saranno sempre così allora però significa che se si decorrelano in un momento c'è uno shock perché in effetti la struttura del mercato cripto eh la naturalità del mercato cripto la vede questa correlazione quindi è molto interessante da andarla eh a studiare e andiamo da proprio a vedere per esempio sul grafico settimanale perché intanto a maggio del duemilaventuno abbiamo cavalcato un po' l'onda di questa fase rialzista di ETH BTC poi quando siamo arrivati qui io vi avevo dettato in pratica i due livelli di barra di congestione 0.085 0.055 dicendovi ragazzi ci filiamo qua dentro ci stiamo un tot di tempo ci siamo stati in pratica un anno e ci siamo ancora però questa situazione va valutata ora io sto valutando eh un maxiciclo su ETH BTC potete anche eh fare uno screenshot di questa roba ragazzi perché ne parleremo poi praticamente in tutti i prossimi anni io penso che lo porterò avanti come ho fatto con la total market cap della DeFi ehm e e e andarlo a guardare questo è il ciclo di Bitcoin di ETH BTC cosicché secondo me è anche il ciclo del cripto contro BTC in senso molto lato quindi lasciatemi passare il termine io penso che ormai siete abbastanza matura la mia community è veramente stramatura ragazzi ho notato anche nei commenti di YouTube eh tantissimi di voi veramente con un grande i fallimenti ehm nessun piangersi addosso eh bravissimi cioè eh top abbiamo fatto un gran lavoro in questi anni di cultura finanziaria veramente difficile da ehm da fare però il lavoro duro eh è giusto però ragazzi questa eh lasciatevi passare il termine questo grafico un po' no? Il grafico che ci ci fa da spartiacque e sta proprio indicando una struttura ciclica pericolosa ma non eh attenzione non nel lungo periodo perché io penso che addirittura la partenza di questa di una nuova fase successiva che già vi indico essere qui cioè da metà duemilaventita ci vuole un sacco di tempo ancora però potrebbe essere molto molto significativa proprio per un cambio radicale quindi io credo che nel momento in cui eh stiamo passando questa fase ethereum eh soffrirà un pochettino ma alla chiusura di questo maxi ciclo che io ho impostato identico al precedente cioè da 1400 giorni è un ciclo eh diciamo un classico ciclo eh definibile eh un po' un triennale e mezzo che in realtà ragazzi su le cripto allora sarebbe un quadriennale però sulle cripto è un tre anni e mezzo però ci può stare questo ciclo lo lo rispettano eh lo rispettano da un po' poi diciamo è un numero particolare per la ciclica perché è 1400 però eh al di là della ciclica classica che eh insomma non anche facciamo le previsioni del tempo ah ah allora eh qui eh il concetto è legato alla struttura naturale ethereum è più forte di bitcoin dal 2019 eh ragazzi più forte di bitcoin fino a quando? Allora anche qui lo è stato vi faccio vedere la precedente alt season quella vera quella dove la stessa ethereum era considerata un alt season eh era un alt coin allora guardate qui tutta questa fascia era in bull cioè 2016 2018 ethereum è in bull su bitcoin è inevitabile e qui abbiamo avuto 2019 2019 2022 in bull è la stessa struttura è identica ora il problema è che questo cambio questo payer si sta avvicinando alla sua naturale fase di scadenza ciclica scadenza di un ciclo di quattro anni non di un ciclo annuale è un annuale che va a chiudere un ciclo superiore quindi un po' di ribasso ce lo fa ragazzi e soprattutto anche questa struttura ancora di più ci mette questo terrore no sul mercato che se questa molla eh insomma vediamo adesso delle caratteristiche probabilmente ciao ciao a a a tante questioni legate al ai progetti gritto e con le mani ciao ciao però allora perché ragazzi perché è pericolosissima se molla ethereum con bitcoin che perché molla ethereum con bitcoin o sale bitcoin a sproposito perché arriva eh powell e dice che lo vogliono come riserva di valore oppure crolla ethereum cioè questo è il discorso per crollare ethereum siccome hanno cambiato i protocolli hanno fatto eh l'hanno resta defrazione eh non inflazionata diciamo meglio poco inflazionata e tutto quello che c'è dietro quello che sta creando quello che si è montato su ethereum cioè che succede allora è ovvio che l'intensità io penso di questa fase non sarà minimamente paragonabile alla precedente cioè la precedente è stato un crash vero e proprio io credo che qui non sarà così assolutamente proprio perché ethereum è veramente molto forte però questo grafico insieme al concetto della dominance mi mette un po' la pulce nell'orecchio ecco perché ragazzi ho tirato un po' bene mi imbarca da qualche mese e e in tantissime situazioni mi sono protetto in stable coin oggettivamente allora qui che succede mollano le stable mollano le pi allora dobbiamo essere molto attenti è una fase molto particolare anche molto bella però perché ci sarà probabilmente un consolidamento di tutte queste criptovalute e e e questa questo grafico ce l'ho evidenzia quindi la vera domanda che mi avete fatto prima è guardare questo grafico con grande attenzione perché ragazzi questa è una barra di congestione che dura da un anno e una barra di congestione può essere o una distribuzione o un riaccumulo chi ha studiato sa che una barra di congestione se breccata da una parte down produce un'accelerazione di trend al ribasso cioè diventa una inversione una figura di inversione tutto ciò lo trovate e nei libri di analisi tecnica assolutamente stravalido nelle cripto è uno dei pattern più validi delle cripto tant'è vero che c'è la questione di wake off di nuovo come abbiamo visto ieri anche questa ha una wake off ragazzi è identica una wake off c'è anche lo spring qui adesso non mi ricordo se si chiama spring al rialzo ma è identico cioè questo punto è pericoloso è pericoloso perché un crash da questo punto di vista è un abbandono soprattutto del minimo che è avvenuto in questa zona o in questa zona eh configurerebbe una fase fatta così di et hbtc con un abbandono probabilmente di tutta questa struttura proprio fino alla prima fase eh il primo quadrimestre dell'anno duemilaventitré dovesse avvenire una cosa del genere assisteremo ad un crash e un consolidamento dell'ambito cripto generale con un bitcoin che detiene più forza e mh sempre nella sua debolezza perché comunque scenderebbe però in maniera più forte e allo stesso punto eh il mercato andrebbe a consolidarsi a spurgare tutta il marciume degli scam che ci sono e dei progetti inutili per poi ricrearsi nuovamente da capo come una felice ho pubblicato un bellissimo post su twitter eh che è molto interessante perché dei livelli ragazzi ci sono da raggiungere su questo cambio è il primo è lo 0.055 ma se non regge lo 0.055 il successivo livello di et hbtc è questo qui sotto e adesso vi faccio capire eh come range di prezzo siamo a dagli attuali livelli a un meno 20 eh fino al primo livello di supporto rilevante e dall'altro livello se breccato un meno 36 più o meno che considerandolo in complesso eh complessivamente sarebbe un meno 40 o meno 50 di btc di ethereum contro bitcoin cioè significa che ethereum perderebbe forza relativa contro bitcoin per addirittura un 40 50 per cento pensate un po' a cosa succede al resto ecco perché in questa fase io non mi sogno minimamente di andare a mettere qualcosa in nel resto dei progetti poi eh andremo con calma a valutarla questa cosa e se non vi sto dicendo allora tutto questo sono ipotesi perché non ci sono segnali del mercato cioè i segnali del mercato non sono avvenuti perché per avviare diciamo questo processo bisogna iniziare a perdere dei supporti e il primo supporto da perdere su ethereum btc è questo qui 0.06 se perdiamo questo qui è già in conferma settimanale già è un prima bisaglia poi c'è questo che è un poco poco più basso quindi entrambi questi livelli sono da monitorare questo eh eh è 0.06 ragazzi questo è un po' più su 0.064 però in realtà io credo che se il mercato vada a perdere questo si avvicina immediatamente a questo cioè non ci fa ci fa una candela rossa secca eh allora proprio questa situazione mi fa molto riflettere e vi dico la verità eh non è assolutamente anomalo eh un mio atteggiamento nella prossima settimana e già da domani di impostazione di una strategia eh di spread come quella che ho spiegato a Bologna o nel mio webinar ragazzi che poi sarà inserita anche nel modulo nuovo che stiamo registrando per i corsisti di It's Trading Time che andrà proprio a considerare una struttura a in a protezione di eh del bitcoin in old utilizzando lo short selling con eh contro alcune cripto non faccio shorts bitcoin l'ho sempre dichiarato per una questione di etica e morale a favore al sostegno di questa tecnologia di questa rivoluzione non è la stessa cosa con le cripto perché le cripto non sono tutte nostre ma sono dei proprietari del team e quindi ragazzi lì io faccio l'investitore e provo a proteggermi quindi eh facendo short su alcune cripto eh proprio perché se si verifica questo tipo di di questione eh le criptovalute in generale perderanno forza relativa su bitcoin e questo significa che scendiamo parecchio ora immaginando un bitcoin che vada a perdere addirittura fino a un ventimila visto che è il supportone che tutti dicono possa andare a toccare se effettivamente fa una cosa del genere io non la vedo strana questa view ragazzi non la vedo strana una view dove Ethereum va a perdere eh forza relativa con bitcoin c'è anche da dire vi faccio vedere che la lunghezza temporale di questo ciclo è è è abbastanza rilevante quindi non vado a aspettare domani una cosa del genere noi parliamo comunque di eh cioè circa qui sono quattrocento giorni quindi stiamo parlando di un annetto eh visto in questo modo è un annetto siccome poi teoricamente bitcoin dovrebbe anticipare di qualche mese un'eventuale fase di recupero di stabilizzazione rispetto alle cripto almeno così ha fatto negli anni scorsi teoricamente un grafico del genere ci indica se tutto si verifica così che siamo in piano bear market abbiamo un anno di sofferenza dove probabilmente bitcoin soffrirà per sei mesi e quindi ce ne torniamo al famoso alla famosa questione del primo trimestre del duemilaventitré e poi un mese due mesi dopo arrivano a conclusione anche le cripto cioè con i team e tutto il resto e beh e beh e beh e beh ragazzi allora io so che sono un cielo del malaugurio diciamo in realtà porto molta fortuna per fortuna quindi io quando dico queste cose di solito eh diciamo poi eh ci mettiamo il bitcoin qui e lo teniamo vicino però ragazzi non è neanche ehm brutto andare a guardare queste cose per chi come noi ci vuole un po' aprire gli occhi e vedere con occhi diversi quello che è il mercato ciò non toglie nulla la qualità eh dei fondamentali di questo mercato non toglie veramente nulla una fase correttiva anzi aggiunge aggiunge valore e la fase correttiva serve a eliminare il marciù però voi che siete investitori se volete abbracciare come investitori un mercato del genere ma anche tutti gli altri sono così ragazzi anche Nasdaq è così eh c'è bisogno di ehm una forte attenzione al dettaglio e a queste logiche ricordatevi di respirare quindi ogni i mercati quando respirano fanno queste strutture ora un grafico del genere si va a sposare alla perfezione con il raggiungimento di un target di BTC ora andiamo a vederlo e si va a sposare con il crash che abbiamo visto sulla total market cap della DeFi che è questo grafico qui questo qui e si va a sposare con la dominance che deve raggiungere quel livello perché solo Ethereum gli può dare dominance a BTC ragazzi il problema è che non mi spiego come sia possibile questa cosa perché Ethereum non è quello di anni fa ecco il mio dubbio dov'è e quindi secondo me è molto forte Ethereum però eh c'è tutto può succedere il grafico mi dice quello non è stato confermato però io quei due livelli li tengo come un campanello d'allarme veramente col cucù e dangerous da 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 film anni 90 chi se li ricorda ragazzi lo schermone dangerous che usciva fuori perché per me sarà fortemente importante andare a valutare quel grafico lì quindi mi avete fatto la domanda doc su un grafico che è il mio preferito per valutare l'intero mercato cripto è la decisione cripto BTC e quindi vi ho dato la la mia super risposta a questa cosa va bene allora abbiamo tempo di studiare sì perché e allora l'ho fatto anche io lo so nella negli anni della pandemia sono stato costretto a star chiuso per anni ho letto ho 35 libri in sei mesi perché c'è sempre un modo di dare un significato anche a queste fasi le fasi di bear market sono fasi in cui noi possiamo approfondire gli argomenti studiare e portarci avanti per quello che verrà dopo credo che sia la soluzione migliore un po a tutto ciao Mauro come posso contattare per approfondire la sola analisi ciclica allora mia personalmente non puoi contattarmi a meno che non sei in academy quindi se vuoi diciamo parlare con me devi essere iscritto in academy oppure puoi mandare delle mail ma se mi fai domande comunque lì non riesco a risponderti mi dispiace perché me ne arrivano in continuazione quindi lì rispondono i ragazzi del back office e non gireranno a me nessuna domanda perché loro si occupano più che altro delle cose commerciali se vuoi parlare di ciclica se sei già formato e sei molto bravo e molto preparato o puoi fare richiesta di accesso diretta in academy senza fare i corsi ovviamente ricordati devi essere preparato se non lì non ci capisci niente però in academy facciamo tanta ciclica quindi puoi venire quando vuoi allora la resilienza di bitcoin dimostrare la resilienza di bitcoin è fondamentale per la sua adoption i bear market sono fondamentali per la sua diffusione sì è vero e anche per il concetto ragazzi molto corretto da dire non ci dimentichiamo che bitcoin resiste anche al concetto di essere accerchiato dal vecchio mercato che in un certo quel modo lo vuole prendere un po' sotto la sua ala per dire fai quello che ti dico io però bitcoin non ci sta ragazzi perché non è una la tecnologia da critto non è così facile da imbrigliare soprattutto quella di bitcoin ci proveranno ma io non credo che ci riusciranno e è ancora in atto una guerra fredda definiamola così e secondo me vedete le pressioni anche del fondo monetario a El Salvador per dirgli esci subito esci subito è un buco di del mondo perché un paese del genere addirittura fa sì che un fondo monetario si metta a fare questi parlano sempre insomma ragazzi se l'esperimento gli va a buon fine non va bene no e quindi in un modo o nell'altro cercheranno di di mettere dei bastoni fra le ruote proveranno a controllarlo ma non ci riusciranno abbiamo visto un primo tentativo di banning di bitcoin vero cioè quello dell'ash rate della cina non ha funzionato ragazzi perché bitcoin è più piccolo dei sistemi centralizzati è più decentralizzato la decentralizzazione è un'antifragilità insita cioè lo so ora parlo complicato cioè i sistemi antifragili sono molto più difficili da combattere perché sono sparsi ragazzi i sistemi decentralizzati sono antifragili e la cina ha provato a bannarlo e tutti sono andati in un altro posto a minare e alla fine la cina si sta riprendendo il mining sembrerebbe che stiano ritornando ad abbracciare il mining di nuovo di bitcoin c'è un fallimento totale quella cosa successo un anno e mezzo fa e la cina non è l'ultimo arrivato è un grande paese quindi queste fasi subiremo secondo me subiremo un po' d'attacco ragazzi se la finanza attacca le cripto le portano a prezzi molto bassi questo vuol dire che comunque la tecnologia resterà sempre quella poi vediamo e loro a un certo punto dovranno finire di attaccare e ritorneremo appunto e a capo e lì l'antifragilità vedete però il bear market è proprio quello che serve un sistema antifragile io essendo comunque già grandetto spero vivamente che ci lasciano andare perché fatemi andare dopo se no poi arrivano sempre dopo i più giovincelli e quando tutto è a posto va bene vabbè non lo so io ce l'ho mai stato perché è bella l'ightening ha senso dunque sì certo che ha senso l'ightening ha senso e come e anche la lentezza di sviluppo di nightening è assenso perché in quel modo che si va verso una direzione non con i pump istantanei allora avete bimpe mentali e basta con btc e basta con l'inizotto di cinque ali sì ma dopo il bear market mai contro trend va bene io studio intanto continuo il pack su tre coin del wallet va bene ragazzi allora intanto buttatevi giù hanno iniziato con l'unosti beh guarda sì e no perché il progetto l'unosti si vede anche ragazzi in italia insomma dove sono nato io si dice che il pesce puzza dalla dalla testa lo è un cergo per dire e c'è qualcosa che non andava già nel team per le ultime cose che hanno proposto sono vergognose sono ridicole perché il vero problema serio non vogliono accettare che è una crash di una ideale di progetto anche questo ragazzi vedete la centralizzazione perché un sistema come gli sti crasha con molta facilità perché centralizzato ragazzi loro dicono che sono decentralizzate ma non è vero perché la struttura decisionale era tutto in mano a un team e quindi è centrale e era decentralizzato la il giro cioè il la blockchain ragazzi ma non le decisioni e invece il problema di fondo è che poi sono le decisioni che fanno la differenza cioè chi ha scelto di fare quella roba si avevano il la proposta da fare ma troppo lenta per agire a una cosa del genere e poi troppo complessa andare a studiare anche se fosse le proposte delle dao sarebbero in ogni caso una decentralizzazione limitata perché non tutti partecipano insomma è difficile ancora far quadrare i conti con quel mondo lì quello è un mondo che usa una tecnologia decentralizzata ma comunque continua a pensare in maniera centralizzata ci vuole un po' di tempo secondo me ci riescono io ve lo dico proprio chiaramente io sono convintissimo che le dao il futuro nuove tipologie di aziende ci vuole solo un po' di tempo perché questi stanno qui da un anno e mezzo da defy summer insomma ragazzi quindi dategli il tempo cioè non c'hanno manco è come un bambino di un anno ci vuole un po' di tempo hanno fermato l'accendo con una settimana vergognosa allora andiamo a vedere allora mi fate sempre la domanda su wirex si ragazzi io wirex la uso ancora è una bella carta e anche il token il token è un token che si è mosso contro trend addirittura non ha perso nulla rispetto bitcoin e nemmeno rispetto a usd io ce l'ho per il cashback però è piccolo è piccolo quindi come tutti i sistemi piccoli capitalizzato mi pare 30 mila dollari praticamente ragazzi con una di fiato può sparire questo lo dovete capire cioè io non faccio investimenti su token così piccoli però lo uso per la carta come il CRO la stessa cosa questo sì perché mi dà il cashback era bella carta wirex e i rendimenti su euro ce l'ha sì ce l'ha però ragazzi anche lì è un progetto che ha subito tante modifiche nel corso dell'anno ricordatevi che comunque i rendimenti non nascono come i funghi a giugno dopo le prime piogge c'è qualcosa dietro quindi si finanziano eccetera è un progetto che ha dimostrato resilienza perché è uno dei più antichi delle carte crypto ha sempre funzionato molto bene ha aperto gli stati uniti adesso anche la struttura quindi è molto bello questo progetto però è la carta funzionicchia però alcuni dicono assistenza un po così insomma hanno dei tassi di rendimenti molto alti valutiamoli però sempre con lo stesso livello di valutazione del rischio che possono avere questo tipo di progetti anche nexo stessa ragazzi la stessa cosa nexo è il top cosa pensi ragazzi è il top ce l'ho è buonissima ok anzi lascio il link in descrizione di nexo così vi scillo nexo mirate una mano ragazzi perché però poi tutto è connesso allo stesso problema della sefai la sefai rischiosa come tutte le altre sefai ex magari un po di meno ci sono alcune che mi piacciono un po di meno però comunque è anche molto grande quindi insomma va bene allora ragazzi io andrei quali sono i collaterali e in che procedura esatto robbi è proprio questo il punto proprio questo è il punto delle sefai andare a verificare realmente dove hanno messo il cash e come fanno a creare questi rendimenti se potessimo fare una cosa del genere in maniera estremamente trasparente riusciremo ad applicare quelli che sono delle metodologie di analisi quantitativa e quindi analisi fondamentale per vedere le rischiosità di queste cose ed è l'unico modo di valutare una sefai l'unico non c'è un altro nella tefai questo è un po più trasparente perché la tefai con la tokenomics tutto quello che il le cose che fanno loro dell'ecosistema nell'ecosistema come fanno a sorreggere per esempio una cripto si vede quindi la vera differenza che secondo me è un valore aggiunto della tefai rispetto alla sefai è proprio questa che ci fanno vedere quello che fanno e quindi anche un bug come quello che va l'una si può comunque valutare e nelle sefai invece è sempre un po invirico non si capisce poi il problema è anche sì ok ci dicono che fanno quello ma è vero perché il problema della sefai è anche la domanda ma è vero no perché voi a volte ci dicono è vero o no perché voi può essere pure che non è vero ragazzi scusate noi io sono del sud in italia e quindi sono un po sempre perpresso a ragionare con l'idea ma è vero va bene comunque next resta la mia preferita e bla 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 allora ciao maro come vedi rune torna mi piace un sacco anche rune e sarà una delle mie cripto da tenere in forte osservazione alla fine di questo bear market perché secondo me può andar bene ti faccio vedere il motivo però alla fine del bear market io ti ripeto per l'ennesima volta milionesima volta non prendo neanche un penny di una cripto che non sia bitcoin e neanche bitcoin adesso che è il controtrend bitcoin solo se inizia un nuovo mensile fin quando non vedo un cambio trend è un'uscita da una fase di bear market quindi di cripto che non siano collegate ad avere ad utility token come può essere per esempio il cro è un utility token il nexo è un utility token un altro progetto che mi serve per fare delle robe è un utility token quindi solo token che mi servono per fare qualcosa allora sì però per investimento no 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 a prescindere perché io non vado contro trend poi voi fate quello che vi pare e insomma fatti vostri ragazzi attenzione che io non sono un iperspeculatore quindi magari se vi aspettate che io salgo sul carro e guadagno miliardi per cento non è così perché io preferisco non perdere e attendere poi altre altre cose no qui devo fare un change perché altrimenti faccio un danno e riprenderla da qui allora andiamo a vedere rune dove sei rune 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 eccola qui allora cosa è successo a rune è scesa come tutte le cripto però se la guardiamo intanto in termini anche di ehm legata a bitcoin ha una certa stabilità che mi è piaciuta ora teoricamente anche rune come tutte le altre cripto comunque ha un annuale ribassista ehm ok però ecco questo è il cambio con bitcoin guardatela eh interessante vedere come si è stabilizzata poco poco essendo che comunque tante cripto eh hanno perso più o meno rispetto a bitcoin in questa fase di stabilità di stabilità con bitcoin eh ci vedo della un lato positivo fermo restando che ripeto ragazzi è comunque ha breccato il suo annuale e e quindi è il motivo per il quale vi sto dicendo che io non ci metto un euro da nessuna parte perché eh ha breccato l'annuale che teoricamente era iniziato proprio eh nella settimana del 21 febbraio ora sta lì lì però teoricamente questo è un break dell'annuale è difficile che l'annuale sia lungo fino a 500 giorni per cui al massimo non è non non diciamo va rivalutato perché la cripto è giovanissima quindi però essendo che probabilmente eh diciamo siamo comunque se scende sotto questo livello eh i tre dollari è pericoloso perché eh brecca vedi questa fascia di prezzo così scendendo sotto qui va 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 poi c'è il trend è assolutamente ribassista quindi interessante da valutare per i prossimi mesi quando tutto sarà finito perché mi è piaciuto l'atteggiamento che ho avuto con bitcoin per un progetto che ho sempre amato e lo guardo però come sempre ragazzi una cosa è guardare poi bisogna far fare anche il lavoro a chi sta dietro interessante però va bene ok allora andiamo a concludere questa live però prima delle domande finali con la questione legata a bitcoin e quindi proprio andare a vedere se è possibile individuare quello che potrebbe essere un supporto immediato per quanto riguarda bitcoin intanto volevo anche farvi notare quello che è il fear and greed che sono degli sono questo qui sono per esempio i grafici del fear and greed legati al mercato classico quindi alcuni di voi hanno detto ecco questa è la prima volta per esempio dovremmo anche dirlo che bitcoin affronta un bear market lato old ragazzi quindi anche questo è interessante l'abbiamo affrontato nel 2000 della pandemia però nella pandemia era una cosa anche estremamente temporanea e anche veloce questa è la prima volta invece che affrontiamo un vero rialzo dei tassi di interesse dopo una grande crisi che è come diciamo un posto limana come la questione limana del 2008 2009 quindi in pratica è la prima volta che bitcoin e il mercato cripto si trovano a dover fronteggiare non un bear market lato cripto ma un bear market lato mondo e probabilmente una stagflazione e una recessione economica per un anno e mezzo addirittura anche il masch ha tirato fuori questa cosa come reagiranno anche questo è un test anche questo è la prima volta vediamo come reagiranno interessante questo è il filo in grid del del s&p 500 interessante andare a comprendere che siamo qui perché se io dovessi dirvi che esistono dei dati così abbiamo visto tanti dati negativi finora perché tutti gli indicatori tecnici e quelli quindi fatti da numeri indicano negatività però esiste un indicatore che ci indica qualcosa di positivo sono due uno il fatto che dobbiamo chiudere un ciclo mensile tra poco della ciclica e quindi però quello insomma è un indicatore un po più leggerivo l'altro che invece un indicatore positivo è proprio il fatto che tutti sono in panico questa fase è l'unico indicatore che io posso dirvi di solito quando tutti sono in panico il mercato va dall'altra parte ora non è però sempre così perché a volte può essere pure che tutti sono in panica il mercato proprio va dove deve andare quindi insomma io un pochettino ho tirato le mie imbarca ragazzi per questo però l'unico gli unici indicatori che sono positivi in questo momento per l'andamento del un'eventura ripresa sono i fear in grid che mi indicano estrema paura sia per quanto riguarda il mercato old ed estrema paura anche per quanto riguarda il mercato crypto addirittura ieri eravamo a otto ragazzi praticamente panico totale e allora una cosa del genere solitamente è positiva perché ci dice che stiamo arrivando alla fine di un trend estremamente ribassista finisce qui il tutto beh allora quello bisognerà vederlo poi dai prezzi perché solo il mercato ci dà una risposta ragazzi ok oggi ho registrato una lezione dove parlavo proprio e mi sono ricordato diciamo questa cosa e di come il mercato ragazzi è l'unico vero grande indicatore che esiste perché il mercato è l'insieme di tutti gli operatori e quindi veramente è difficile che sbagli al mercato ragazzi e non vi pensate che il mercato vi dà gli sconti famoso concetto degli sconti non esiste il mercato vi prezza una cosa al modo giusto per il 95 per cento delle volte solo un 5 per cento sbaglia e quando sbaglia si riequilibria di solito si equilibra entro pochissimo tempo quindi attenzione a considerare degli eccessi di mercato perché probabilmente il prezzo attuale di bitcoin più o meno il mercato dice ci siamo siamo a un prezzo giusto va bene quindi io valuto un po' queste cose così quindi questo è comunque l'unico indicatore che ha un senso e dire ok siamo arrivati alla fine della fase di basi ma è un po' presto diciamo per diciamo per fare queste cose qui ok allora mi diceva che è aperto questo forse è apparso nella pubblicità qui non lo so non l'ho visto dov'era io non ho visto niente va bene dai non lo dico più non ho visto niente va bene e allora andiamo a vedere invece un graficone che per cercare di trovarci un pochettino dei punti di snodo di questa fase prendo a riferimento questo che è un uno dei miei grafici preferiti a scherzavi ok rom scherzare che uno dei miei grafici preferiti sul lungo periodo di bitcoin intanto mi piacerebbe valutare su questo grafico mensile il formarsi per esempio di una shadow pronunciata in maniera importante allora una shadow pronunciata su un grafico questo è un grafico mensile di bitcoin una shadow pronunciata da questo punto di vista è un po' eccessiva e non me l'aspetto mi aspetto una figurazione terminale che sia simile a un mese fatto o così ve lo mostro o così oppure in generale come questa qui che è molto simile ma è più piccola col corpo schiacciato voglio vedere prima un mese del genere e per avere un'idea generale se magari siamo in un'eventuale fase di ripresa molto simile a questo concetto non è questo gli sciacquoni non sono quasi mai dei pattern di chiusura di un trend ma sono dei pattern di movimento centrale di un trend come se fossimo nel corpo stesso del trend quindi soltanto poi una candela più piccola di riposo ci può dare la fine magari di una situazione per esempio nel 2019 era questa la candela lo so che molti di voi dite ah ma poi c'è stata questa qui ragazzi è un evento che si verifica una volta ogni cento anni se siete analisti dovete anche considerare questa cosa quindi quella candela lì di marzo 2020 c'è cento anni l'ultima volta cento anni fa e beh ragazzi noi la valutiamo che la valutiamo però in un modo o nell'altro se io sono una lista di dati devo rendermi conto che questa non è una candela che si verifica l'anno prossimo cioè questo almeno penso di no insomma è più probabile questo tipo di atteggiamento allora andiamo a vedere allora intanto il mercato di queste due medie queste sono due medie un po diverse 12 mesi e 22 mesi leggermente poco poco più veloce dei due anni quindi una media annuale è una media a quasi due anni però in realtà queste medie ci indicano che quando siamo al di sotto di queste due medie inizia la fase di bad market qualcuno di voi mi ha chiesto Mauro ma la media 52 settimane che io uso queste perché sono più veloci però volendo volendola fare a 52 questa qui la possiamo anche andare a vedere per controllare dove siamo e mettere la ovviamente la settimana quella lì quindi andare a vedere ecco questa questa qui 52 settimane è la media dell'anno in pratica ragazzi che è esattamente coincidente con questa a 12 sul mensile è la stessa quindi io la uso così perché mi viene più comodo ma insomma guardatela un po' come vi pare è la stessa cosa allora quando siamo sotto in pratica questa qui invece quella dei due anni per me siamo nella fase di bear market classico dei mercati cripto l'ultima volta ci siamo stati sotto più o meno 1 2 3 4 5 6 mesi e poi siamo risaliti quindi se da qui in poi calcoliamoci sei mesi ce ne ritorniamo di nuovo a tutti i famosi concetti che abbiamo visto prima novembre 2022 teoricamente una fine del ciclo annuale e del bear market entro l'estate settembre e poi un mese e mezzo per recuperare fare diciamo eh e risalire al di sopra non so ragazzi se avremo la forza di recuperare di fare eh questa cosa così grazie Marco eh grazie e perché secondo me eh un po' quest'anno è un po' diverso però di questo ne parliamo vedete che qui per esempio è più simile a questo eh l'anno che stiamo vivendo qui è più lunga la questione siamo stati sotto eh per undici barre barra dodici quindi un pochettino di più quasi un anno io la vedo più così eh stile 2014 2015 questa fase che stile è 2017 2018 perché non è eh il mercato non ha mai avuto questa bull fatta così a spirale e a me non piace questa cosa io avrei visto volentieri un breakout di questo livello di massimo eh che poi non è mai avvenuto. Allora quali sono i livelli di supporto? Intanto il primo è evidente è questo qui che abbiamo già toccato e e lo possiamo individuare utilizzando eh anche i livelli di Fibbonacci quindi se tirate su i livelli di Fibbo eh vi esce fuori eh esattamente quel livello ragazzi che più o meno è i sessantuno e otto vedete che è questo qui di di Fibbo. Attenzione che i Fibbo non si mettono al dettaglio ok? Soprattutto ero sulle cripto. Eh e dovete insomma stare molto attenti quando li utilizzate in un certo modo. E poi da qui c'è la questione che l'unico punto di supporto deve essere eh sostanzialmente questa qui. Però come vi ho detto la scorsa volta io credo che il mercato cercherà un nuovo punto di equilibrio in mezzo a questa fascia perché perché secondo me eh è cambiato molto nella struttura fondamentale e quindi io reputo eh più corretto andare a fare un'analisi di estensione di eh di prezzo. Cioè da qui a qui abbiamo avuto l'ottanta per cento se io vado a replicare più o meno una cosa del genere dico che il mercato se ne può andare all'ottanta per cento e deve arrivare praticamente a dieci mila dollari. Però è anche vero che non siamo nella stessa struttura perché questo balzo in in su del duemila diecisette come dicevo prima non c'è mai stato e quindi io credo che le oscillazioni mh tra il massimo e il minimo di questa fase di bear market saranno più contenute rispetto all'ultima alle ultime fasi. Eh è proprio un concetto un po' tecnico comunque vedete questa qui eravamo intorno all'ottanta qui siamo stati intorno all'ottanta io penso che siamo maturi per fare una struttura un pochettino più contenuta e quindi proprio intorno a questa zona quindi secondo me eh se il mercato se dovessimo assistere a una fase naturale quindi non con eccessi non aggressioni non crash proprio ipotetici potremmo anche evidenziare un punto di arrivo in zona eh ventidue venti ventidue diciotto mila dollari come addirittura finale di questo bear market è chiaro che già stiamo parlando di un altro meno quaranta degli attuali valori quindi mi rendo anche conto di una cosa del genere che è abbastanza pesante però eh ragazzi se tutto dovesse andare storto eh abbiamo giugno luglio agosto settembre quattro mesi di sofferenza io utilizzerei questo questa zona che adesso ci eh andiamo a disegnare come abbiamo fatto sempre nella nostra eh più o meno eh vita insieme chiamiamola così ormai siamo eh più fidanzati noi ragazzi che eh sto più con voi che con la ragazza vabbè allora questa è la zona e clicchiamo su save che secondo me possiamo andare a individuare va bene allora questo è il mio punto di vista su il punto di supporto che se perdiamo l'ultimo minimo quello che abbiamo fatto a venticinquemila probabilmente bitcoin si indirizzerà lì eh più tardi lo perdiamo meglio è se non lo perdiamo è ancora meglio se non lo perdiamo e torniamo a salire nei prossimi tre mesi vuol dire che il ciclo annuale è stato già chiuso torniamo a salire in maniera consistente ragazzi non il rimbalzo del ciclo mensile è stato chiuso adesso e e quindi c'è una forma eh ternaria che è un'anomalia di cui parliamo nelle prossime settimane va bene allora fatemi sapere eh e bla 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 ah Simone è una bella domanda cosa ne pensi dello scalping eh quando è consigliabile farlo allora lo scalping cioè un' attività di trading intraday che poi ha diverse sfaccettature cioè tu puoi eh fare scalping sui titoli ehm praticamente anche partendo da un time frame a cinque minuti per esempio oppure un semplice scalping si può anche definire una operazione intraday che è fatta proprio durante un giorno di qualche ora sostanzialmente il vecchio scalping negli anni novanta è fallito ehm nei primi anni del duemila perché c'era un problema tecnico dovuto alla eh al fatto che i computer quando si sono inserite le macchinette i bot per intenderci hanno devastato chiunque provasse a fare scalping perché eh sono più veloci quindi siccome lo scalping ha un problema legato alla tecnologia è molto veloce ed essendo molto veloce da eh mettere in atto i bot e ti 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 solclassano quindi poi è stato pian piano abbandonato e bla 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 ora eh lo scalping in senso lato quindi inteso eh come attività intraday la puoi fare come trading ehm però ti impegni a tanto tempo quindi eh è un' attività poco rischiosa perché se tu sei molto bravo e sei un trader rispetto l'attività mh del trading intraday è poco rischiosa in quanto tu alla fine della giornata esci non sei mai a mercato quindi può succedere un crash e hai preso lo stop loss non sarai mai dentro non sarai mai stato dentro il trade di luna per esempio contro trend perché sei intraday però non prenderai mai i profitti di un boom enorme perché il trading intraday è così quindi lo scalping in generale o l'attività di trading intraday è un'attività eh dedicata ai trader puri te la consiglio se vuoi formarti perché se tu ti vuoi formare per esempio è un modo molto bello di formarti perché farai mille errori è difficilissima ti brucia eh in pratica il capitale eh psicologico però se tu lo sai no e ti metti lì e dici ok ma io lo faccio solo per formarmi eh poi pian piano tiri le mani indietro e fai sempre allora tutti i trader iniziano come scalper e finiscono come cassettisti si dice così in gergo perché eh impari tanto ma non guadagni niente poi parte un burlan e tu sei fuori perché non c'hai la testa no per stare lì che hai fatto l'intraday per 300 giorni all'anno e non è non c'è niente che è sbagliato giusto e sempre di dipende sempre da come lo utilizzi io lo consiglio anche ai miei corsisti per imparare all'inizio perché veramente vi mettete dentro una cosa quindi prendi un demo un paper trading per esempio di trading view lo metti lì e vai e poi un macello quindi sbaglio un sacco ma impari anche tantissimo quindi che ti pensi che ti porti a casa lo stipendio se non sei un trader esperto da dieci anni ti assicuro che non è così eh è molto difficile eh ti può andare bene per qualche mese ma poi inizia la serie negativa ti demoralizzi insomma mi raccomando su queste cose ok e tra l'altro solo se sei un trader però va bene eh andiamo a continuare il livello di percepiti c per indicarci l'inizio del mensile sì andiamola a vedere ragazzi poi vi lascio oggi che voglio andare in palestra perché altrimenti non ce l'ho mai allora a livello dei lì per inizio del mensile secondo me allora per un inizio del mensile classico è un po' difficile perché dovremmo andare teoricamente al di sopra di 43.000 quindi la vedo difficile proprio come è struttura di prezzi mi sembra un po' eccessivo penso che al di sopra di quota trenta duemila trenta duemila e cinque si possa definire questo minimo come l'inizio di un nuovo ciclo mensile ma è un abuso perché teoricamente l'analisi tecnica l'analisi ciclica classica dice che dovremmo stare al di sopra di qua però poi dipende anche dal tempo quindi diciamo siccome qui è finito un po' troppo presto secondo me se saliamo sopra trenta due io do per iniziato un nuovo ciclo mensile la dico così poi vediamo insomma che sono sempre le eccezioni e le eccezioni varie eccetera ultime domande se volete una demo dalla validità del consiglio di mauro parlate con me va bene ciao Gianluca sì perché tu sei nel corso e stai facendo appunto questa questa cosa qui hai provato calesterni che nella mia palestra c'è calesterni che esatto la fanno anche lì ma io faccio crossfit mi piace di più allora gli altri youtuber non li conosco ragazzi quindi Robby se li conosco e poi comunque non darei mai consigli e giudizi su altre persone ci mancherebbe come la vedi l'analisi ciclica Atom BTC ultimamente sta facendo cicli tarnali da venti circa sembra che chiuderà a breve Atom BTC vediamolo Atom BTC Cosmos ha fatto un disastro negli ultimi periodi ragazzi non mi è piaciuta proprio ora cicli da venti eh cicli da venti eh vediamo un po' tu dici qui sono diciamo lo doppio e sono tre da sessanta ma guarda lì sei totalmente contro trend però starei molto buono su questa roba qui l'ultimo sessanta dovrebbe essere più o meno qui due da venti trentaquattro quarantacinque dovresti esserci dovrebbe essere l'inizio di un nuovo ciclo si hai ragione c'è il contro trend totale cioè io qui aspetterei forse che che sviluppa il ciclo per andare short sarebbe forse meglio comunque sì potrebbe essere il minimo di un nuovo ciclo da venti però potrebbe anche aver praticamente già fatto tutta la parte up e poi ritornare a scendere perché trend è estremamente ribassista quindi attention please ma è vero che il portafoglio tassera il portafoglio tassera il portafoglio tassera sembra di sì eh vediamo poi con calma eh ci vogliono due anni per queste cose ma anche in Italia se non sbaglio fra due anni ragazzi arrivano delle normative totalmente nuove ciao Mauro eh eh caricherai il VODO mi sono perso la tua analisi fatta a BTC sì lo metto su eh la carico anche su eh su YouTube va bene eh allora eh se consideriamo il vero questo settimanale teoricamente un mensile dovrebbe essere partito eh però questa oggi sta andando a chiudere sotto il minimo precedente eh poi entriamo nei tecnicismi qui eh bravi comunque ragazzi che siete eh ferrati nella ciclica bravissimi e io quando ho iniziato ero l'unico facendo questa cosa adesso in quattro anni siamo diventati eh siamo persone molto bravi anche in Academy da me ci sono dei bravissimi analisti ciclici bravi proprio bravi ragazzi sono contento Mauro ricorda non fare cardio che fa male eh hai ragione io so un po' di pace comunque vabbè vero quando la nuova trading competition la facciamo magari se state quando un po' si ristabilisce un po' di equilibrio altrimenti è la fine eh allora tu ti sei formato solo eh vabbè è giusto che ti devi formare tutti noi ci formiamo soli poi magari alcune volte studi perché fai magari due anni con due mesi perché il corso ti facilita l'apprendimento e e ti dà tutte le informazioni concentrate invece di andartene a cercare da solo ma sempre soli ci formiamo se non applichi quelle cose e non le studi bene nessuno ti può insegnare niente quindi siamo sempre soli va bene eh ok no grazie a me grazie a me ho capito grazie a mindset grazie a te perché sei ti sei formato vuol dire ci hai messo attenzione focus energia va bene ragazzi allora io vi vorrei salutare che voglio andare in palestra ed è un quarto comunque grazie per il tuo corso non vedo l'ora di entrare in academy ciao Zenit ti aspettiamo sono contentissimo registrato tre lezioni di cui una non so neanche io che cosa ho fatto che ho esagerato speriamo che la taglierò perché è troppo pesante i cosi training sono i migliori sono contento grazie ragazzi è un po' di tempo che me lo dite in tutte le live e sono molto contento vi faccio del mio meglio ragazzi per aumentare e dire quello che posso ma poi tanto si vede va bene allora grazie a tutti quanti voi e noi ci rivediamo nella prossima live nel prossimo sarà un video quindi settimana prossima nelle live e poi nei video di questa settimana forza btc 29.000 ce la fai non ce la fai secondo me oggi chiudiamo sotto il precedente minimo e andiamo a fare un doppio minimo sulla settimana e poi vediamo da domani ciao a tutti ciao raga grazie a tutti Grazie.